Il video di Ovita, l'ho visto, insomma, tu sei una specie di satellite intorno alla cupola di San Pietro, cioè di grande protagonista. Perché sono nato lì, sono nato proprio a 100 metri da San Pietro, qui dalla finestra della mia cameretta. Poi tuo papà, no? Mio papà lavorava in Vaticano, 55 anni ha lavorato in Vaticano. Noi siamo stati sempre in affitto in un appartamento del Vaticano. Che faceva in Vaticano? Lui è entrato come gendarme a 20 anni, 19 anni. Poi dopo 5 anni di gendarmeria si è congedato, gli hanno detto se vuole rimanere lì in un ufficio e ha fatto l'impiegato. Però poi, siccome era simpatico il mio babbo, ha fatto un po' il factotum, per cui accompagnava i preti. Faceva il papa? No, però li conosceva. Oggi mi fai il papa. Conosceva di tutti, ha conosciuto i papi. Fantastico. A me ha lasciato un quadro con tutte insieme, sullo stesso foglio, credo le firli autografi di 6 papi nello stesso foglio. Che penso sia una cosa molto rara, perché tutti quanti nello stesso, sullo stesso foglio. Senti, ieri è stato il compleanno di Papa Francesco. Facciamo gli auguri qua da Radio 2, Social Club, io non eravamo...